Ciao bimbi, come state? Oggi vi volevo mimare e raccontare la storia di Ti voglio bene anche se. L'ascoltiamo insieme. Questo è Mini. Mini brontola. Si sente piantagrane e prepotente. Finché Maxi entra e chiede Mini mio, che succede? Sono Mini piantagrane e nessuno mi vuol bene. Dice Maxi, Mini mio, ma con te ci sono io. E lo sai, ti voglio bene. Anche se sei piantagrane. Chiede Mini, anche se fossi un orsetto, sbranaossi. Mi vorresti ancora bene e staremo ancora insieme? Dice Maxi, certamente tra di noi non cambia niente. Che tu sia un orsetto o no, io per sempre ti amerò. Dice Mini, e se fossi un grande insetto, mi daresti ancora affetto? Dice Maxi, certamente tra di noi non cambia niente. Che tu sia un insetto o no, io per sempre ti amerò. Ride Mini più tranquillo. E se fossi un coccodrillo? Nel mio abbraccio forte e stretto ti terrei andando a letto. E coccodrillo pure no. Io per sempre ti amerò. Ma l'amore si consuma, se si scolla, si riattacca, se si rompe, poi si strappa, poi si aggiusta, si rattoppa. Maxi, prenda Mini tra le braccia e sulla notte immensa stringendolo si attaccia. Guarda Mini come brillano le stelle nella notte, benché molte di loro da tempo siano morte. Finché le stelle splendono nel cielo buio e nero, l'amore sarà vivo per sempre e per davvero. Spero che questa storia vi sia piaciuta. Alla prossima, al prossimo video. Vi mando un bacione enorme, mi mancate tantissimo. Un bacio, ciao bambini! Un bacio, ciao bambini!